ciao a tutti ragazzi sono io il grande papà cross sono voi in compagnia di sense ah sei sempre qui a rompere sense? si ok ragazzi quindi siccome vi è piaciuto siamo tornati su call of duty ehi volete comprare una dog? sense come farla a comprare la dog? o ebay quanti lavori hai detto che facevi sense? cinque cinque perché allora non siamo stra ricchi e sense? perché sono sempre in pausa sense perché non lavori mai cambia squadra non posso sono in pausa sense non compromettere questo gameplay io vado a camperare oh dai ne abbiamo fatto provare a giocare a call of duty online anche lei ma ha detto di odiare i camper e di odiare il gioco e le armi e la cassa produttrice e gli sviluppatori così ci ha rotto il joystick ha rotto il nostro joystick il terzo joystick giocavamo con l'umano con il joystick ma dove si vuole? ho provato a vendere anche lei l'umano non ha gradito hai messo in botti modalità super night house e chance? non li avevi visti cos'è la corretta? già molto strano posso essere più corretta? grazie papyrus bene l'ho tirato giù un altro bene c'è la vita speciale au molto bene aiuto 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 muore 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 si fai così grazie papyrus vince sempre mi dispiace il città di tutti potevano comprare anche loro i miei dog sesso robot senza un'anima anche noi siamo senza anima vuole entrare in casa mia no noi un monster ce l'abbiamo un'anima solo che è debole quindi muore subito se ci ammazzano hai mai studiato storia sess? hanno anime di bot loro allora? non lo so sess stiamo vincendo ehi credi che siano degli amalgamates? perchè dovrebbero esserlo? non sono mostre non sono umani cosa dovrebbero essere? è un gioco sess un gioco molto realistico e Dio se lo sa com'è finito avere l'underground oh mio dio da un ceberus vedi quello? ha bisogno di un cecchino un attimo che bevo un po' d'acqua ragazzi che ho intimamente a mal di gola divertito con quell'acqua? non fare questi scherzi non fare questi suori stupidi devo cambiare classe da nazione mi scelgo questa che bella vedi come si compra quei soldi? ho comprato un ceberus sei fatto un ceberus? però erano gli unici soldi che avevo quindi dobbiamo rifare dobbiamo tornare a vendere a dog che peccato quanto dog hai venduto nella tua vita? quello umano che li ha sempre comprati per la vita aiuto mina 20? ma 19 li ha comprati l'umano e l'uno l'ho comprato io ah vabbè comunque ma nooo sono su un porto oh ho visto il tuo cadavere questa partita è stata lupata io ce l'ho mai visto ragazzi il senso mi ha battuto stavo controllando le statistiche ma l'hai toccato oh oh un refire disponibile dunque mi state dicendo che devo per forza uccidervi? oh non sei stato buono ma il grande pyros ha perso tutta la sua skill mi stai dicendo? ma il signore devo cambiare classe assolutamente no davvero? sei sotto di me? le sto prendendo questo questo non è bello ma non sei sesso anche se ne sei tu è sicuro di stare bene? SES morite bastardi non preoccuparti ti alleggerisco un po' il carico proverò a uccidere il coltello addosso SES non stiamo vincendo così tanto ecco ho dato uno un poco gentile odio quando sono poco gentili avranno un brutto momento ok SES dovremmo stare assieme ah davvero? mi spanno sparando dappertutto bene no c'è un altro no ah che tiro oh no ho bisogno di te a proposito avete trovato l'umano? sei sicuro? cosa? avete trovato l'umano sì o no? questo gioco ci sta rovinando non credi? perchè ci dovrebbero rovinare un gioco così bello SES mi sono abito speciale che mi individuo e mi vici è pieno di gente ho sterminato l'intera popolazione di umani SES perchè non sono ancora una guardia reale SES forse perchè non sono umani dovevi catturare un umano è un vero peccato a pensare che non l'abbia catturato devo solo incontrarlo ne ho trovato uno e lo hai fatto amico non l'hai catturato SES nooo è cattivo oh oh ora ho capito come funziona questa verità speciale finalmente ossia tranquillo te la faccio fuori io io posso usare con un coltello anche se non dura niente ah giusto è tipo con un coltello solo che li uccidi con un colpo ma coraggio più elevato da quel che ho capito muorete oh cavolo muore mi ha preso oh mio dio sta passando la banda dell'Undercraud ah è per celebrare l'anniversario del regno di ascolto sono in pausa SES perchè non rispondi sono in pausa SES fine pausa ok va meglio tranquillo sto dietro io è nata per il dodicesimo anniversario del regno di ascolto non ricordo se solo che è per ascolto in un modo o nell'altro sai che ti ho salvato la vita due minuti non so anche che grazie fratello mi sarei saluti l'ho mancato peccato oh giusto mi ero dimenticato mi ero dimenticato no 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 piccolo umano ok vabbè ti è passata di solito non passa mai qua snow team chissà perchè sta passando proprio aaaaaaah indovinate quando passa quando giochiamo con l'odio esatto è vero ma ci sono apposta ah attenzio oh ahi Iiiiia Come ti voglio riprendermi? Muori Fuori bene, sta a terra Posso che devo pensare Nooo Nooo Spero Spero che Spero che vada nelle otterne con un maglione pesante Sto vincendo Sto vincendo Siiii vai così Vabbè si vanno a terra, ne sono più su fly Aia Fanno male questi proiettili Ah no aspetta Qua è il tuo Cerberus Fatti invece il Cerberus Essendo mio è più forte Sono molto indietro, che peccato Eppure sono così Sensazionale Sesso mi fanno a me E' G4 Dai 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 Non trovo nessuno Dovrei mangiare una calamita Così divento attraente Uuuu Ah no Varebbe nemmeno la pena Ormai commentare C'è battuta Ess E' una vergogna di questa famiglia Perchè Sei Perchè si sa che in questa famiglia siamo Io e te E io E' un grande papà E tu Sono così elevato che Fu Sei una vergogna Semi vergoglioso Standomi vicino Ho ucciso tre persone Ho fatto una triplacchina Dovresti essere fiero di me invece E lo sono Che cosa è successo? Sono esploso SES Perchè si è esploso in quel modo? Non ne ho idea SES Ti faccio copertura da qui tranquillo Questa è inne Io ho il fatto interventoire Up Hum Vieni qui Deta Metatoss Finito un'altra parte papà e lo sfinge ancora guardate che fortuna aveva la cosa ucciso e se chiedere mori è un umano che sta parlando di laman con chi starà parlando un metatone un metatone perchè metatone dovrebbe essere a casa nostra devo chiedere all'autografo stop qui oh dog ok si vede l'amoragasi